Arturo Cerulli, sindaco per poco di Monte Argentario, ma dicevo si fa un gran parlare nei siti internet e giornali locali, anche nazionali, di questa storia dei lupi a Porto Ercole, ma è vera? Purtroppo è vera, anche se poi non dobbiamo esagerare con le preoccupazioni, però bisogna occuparsene e capire esattamente intanto di cosa stiamo parlando, perché sono veramente lupi o forse come più probabile sono dei cani, degli ibridi e questo lo scopriremo a breve perché abbiamo già proprio oggi messo delle gabbie, non è che l'ha fatto il Comune, l'ha fatto la Regione Toscana dopo aver chiesto il permesso al Ministero delle gabbie. Cerchiamo di catturare? Cerchiamo di catturare e con la consapevolezza che se sono veramente lupi non entreranno nelle gabbie, perché nelle gabbie c'è un'esca ovviamente morta, c'è della carne, quindi se sono lupi non entrano, se invece sono dei cani, degli incroci entreranno e quindi saranno catturati e poi trasportati a dei centri specializzati per capirne la vera natura, se sono ibridi, di che generazione e in funzione di queste vanno trattati in maniera diversa. Poi mettiamo anche delle fototrappole e quindi se per caso vedessimo dei lupi, allora il discorso è diverso, intervenire sempre tramite il Ministero dell'Ambiente ci daranno altre informazioni. Per il momento ce ne stiamo occupando seriamente perché, ripeto, assolutamente non vogliamo nascondere il fenomeno, non vogliamo fare copre che fa freddo, però dobbiamo anche stare attenti a non diffondere false informazioni e false paure. Anche perché la stagione sta partendo, magari chi vuole venire l'Argentario, qualche piccola preoccupazione. Io penso che sì, deve essere preoccupato, ma ci potrebbero essere gli squali nel mare, quindi diamo il giusto peso alle cose. Certamente vedere uno di questi animali che scorribanda in paese fa paura, però poi certe volte si uniscono anche storie poco probabili. L'altro giorno una signora mi ha detto che ha visto una lupa incinta con accanto il lupo maschio. Ora questa storia da sacra famiglia mi sembra molto difficile da essere ritenuta vera, questa famigliola di babbo, mamma e piccoletti. Però bisogna rispondere a queste cose, noi ci stiamo coprendo e ci stiamo muovendo, però diciamo pure che non si è mai detto che un lupo ha dato noi a un bambino o cose del genere. Ci potrebbero essere degli animali che il lupo potrebbe cacciare e quindi preoccupazione per i gatti, preoccupazione per altre situazioni. Gli stessi cani da compagnia. Ricordiamo comunque che il cane da compagnia va sempre tenuto al guinzaglio, perché questa è un'altra legge e regola che va tenuta presente e quindi il cane libero non si può lasciare, non si può andare in campagna e lasciare libero il cane. Questo è vietato dalla legge, il cane deve stare sempre al guinzaglio. Quindi anche su questo, noi pensiamo che l'umano ha paura del lupo, soprattutto per le storie che ci hanno raccontato da piccino e che noi siamo, io la racconto al mio nipote che ha tre anni, la storia di Cappuccetto Rosso. Però poi nella realtà il lupo ha molta più paura dell'umano, quindi insomma anche questo da... Allora, detto in apertura, Arturo Scerilli, sindaco per poco di Monte Argentario. Veramente siamo agli sgoccioli, sindaco? Ormai siamo in discesa, come dico, anche se ancora non sappiamo le date delle elezioni, però dovrebbe essere verso fine maggio, quindi manca... In maggio, primo giugno, dico. Insomma, mancano due mesi, via, ci siamo. Allora qual è lo spirito? Ma lo spirito è come sempre, diciamo, ovviamente io non è che mi sono fermato a fare le cose, stiamo portando avanti i lavori come se mancassero dieci anni. Ecco, quali sono gli ultimi cantieri? Ma abbiamo ancora aperti alcuni cantieri che riguardano il centro storico, il centro abitato di Porto Ercole, di Santo Stefano e uno grosso a Porto Ercole per quello che riguarda la costruzione del Museo del Caravaggio. Per quanto riguarda invece l'ex Cirio? Intanto diciamo che quella è un'attività privata, la Cirio non è del comune. Noi lì ci stiamo muovendo per completare l'iter burocratico, sempre lunghissimo, che permetterà appunto alla fine di fare questo... Comune, provincia, regione, eccetera. ...tutto il mondo possibile e immaginabile, insomma non sono mai passaggi facili, però il comune fa la sua parte, stiamo mettendo il massimo impegno perché riteniamo che fare un albergo al posto dell'attuale struttura vecchia, inutile, brutta sia tanta roba per Porto Ercole. Ecco, ma tutti questi cantieri saranno poi seguiti da Arturo Cerulli anche nella prossima giunta oppure no? Ci sarai o no? Non lo so, io sarò in lista, io mi presento candidato come semplice consigliere e poi vediamo i risultati, insomma io cercherò di farmi votare, non è che sarò lì per figura. Ma sinceramente pensi di aver governato bene in questi dieci anni oppure c'è qualche cosa che insomma forse avresti potuto fare meglio? Ma io penso che si può sempre fare meglio, però devo dire che sono soddisfatto soprattutto se mi confronto non tanto con quello che avrei pensato che avrei potuto fare, ma soprattutto se mi confronto con chi mi ha proceduto, insomma, io penso che le opere fatte in questi dieci anni, ma non soltanto le opere pubbliche, quelle che si vedono, anche altre cose, mi riferisco per esempio all'urbanistica, mi riferisco ai tre piani regolatori dei porti approvati, mi riferisco alle demolizioni che abbiamo fatto di situazioni abusive vecchie di 40 anni, mi riferisco appunto a rimettere in moto l'asilo di Casoli piuttosto che la Cire o piuttosto che il giardino di Jacovalcia a Santo Stefano, cioè cose che hanno incancarite da decine e decine di anni. Ecco, io direi che insomma, non so perché gli altri non l'avevano fatti, ma noi ci siamo riusciti e quindi ne sono molto fiero. Alessandro Roncolini, delegato al Palio per il Comune di Monte Argentario, sia per quanto riguarda Porto Ercole che Porto Santo Stefano, abbiamo letto qualcosa che non ci è piaciuto in questi giorni, i guzzi non sono pronti quelli nuovi. No, diciamo che ovviamente i pali, banalità direi questo, si fanno con le barche e i tempi tecnici purtroppo della burocrazia ci hanno impedito di fare l'operazione che era nelle corde, di dire che facciamo subito da quest'anno i guzzi nuovi per Porto Santo Stefano e poi faremo i guzzi nuovi per Porto Ercole dal prossimo anno. Abbiamo approvato il bilancio a metà febbraio, poi le carte diciamo ci hanno portato lontano e allora il cantiere che è il cantiere navale dell'Argentario, quindi storico cantiere di refitting a livello mondiale, non ci garantiva più i tempi di consegna per la consegna dei battelli a luglio a Porto Santo Stefano. Allora abbiamo deciso a un refitting parziale delle barche diciamo attuali, quelle storiche, che faranno festa di primavera 22 aprile, consegna dei battelli a Porto Ercole il 28 aprile, palio a Porto Ercole il 3 giugno, poi ritorneranno in cantiere navale dell'Argentario a Santo Stefano per un ulteriore piccolo refitting e l'8 luglio verranno consegliati ai rioni a Porto Santo Stefano. In maniera che finito il paliotto del 16 d'agosto, dal 18 d'agosto insomma giù di lì, andranno subito in cantiere per iniziare quel processo che abbiamo detto che avremmo fatto precedentemente. Comunque, tranquillizziamo, i nuovi guzzi verranno fatti comunque? Assolutamente sì, sia per Port Ercole che Porto Santo Stefano sono già stati stanziati i soldi in bilancio, è una questione di tempistica, l'inaugurazione verrà fatta dal nuovo sindaco nel 2019 ma gli impegni tecnici e finanziari sono già stati presi da questa amministrazione. Ecco, Alessandro Roncolini sei a fine mandato per quanto riguarda la tua carica di delegato al Palio, che poi è regata a Rimiera per Porto Ercole e Palio di Porto Santo Stefano. Siamo alla fine, tiriamo le somme? Ma sì, diciamo tanta soddisfazione personale, cinque anni duri, difficili per tanti aspetti, con tanti attacchi ricevuti e con tante comunque attestati di stima il doppio altrettanto ricevuti. Sono contento, diciamo il sindaco mi ha lasciato lavorare bene con questa delega, dandomi carta bianca operativa e diciamo che posso dire tranquillamente, poi il giudizio deve essere esterno, ma che il Palio lo lascio molto meglio di come l'ho trovato. Allora, restiamo in tempo a Palio, cosa stanno facendo qui a Porto Ercole i rioni, cosa stanno facendo i rioni di Porto Santo Stefano in questo periodo? Allora, a Porto Ercole siamo un pochino più vicino alla consegna delle barche per gli allenamenti, che sarà il 28 d'aprile. Nel fattempo abbiamo fatto il concorso con la scuola, solito con le scuole medie di Porto Ercole per la definizione del manifesto che rappresenterà la 41esima edizione della regata dei quattro forti, è in lavorazione lo standardo del Palio che verrà assegnato al vincitore e quindi i rioni si stanno organizzando anche per una coreografia inerente, la sfilata eccetera. Porto Santo Stefano siamo un pochino più distanti dal Palio, che come sapete si fa il 15 di agosto, i rioni cominciano a affacciarsi a mare con le barche di proprietà, quindi dopo un allenamento invernale e stanno lavorando, adesso prossimo appuntamento, la festa di primavera che sarà il 22 d'aprile, domenica 22 d'aprile a Porto Santo Stefano, dove con l'occasione faremo scendere in acqua le barche a voca femminile come fu per l'anno scorso, quindi insomma work in progress su tutte e due fronti. Torno un passo indietro, mi ha detto, lo lascio in condizioni migliori di come l'ho trovato, ma non sarà solo merito del delegato, forse qui anche i rioni hanno fatto la loro parte. Assolutamente, il delegato è un anello della catena, i rioni si sono sempre più strutturati, si stanno sempre più strutturando, l'ente Palio stesso, rinnovato, l'amministrazione che ha sempre comunque investito fortemente nel Palio, nell'unica manifestazione per quanto riguarda Porto Santo Stefano storica ormai rimasta di un certo livello. Quindi quando c'è un risultato è un lavoro di gruppo, non è un lavoro di un singolo. Io che faccio la parte alta della piramide, ovvio che ho dovuto per forza di cose assecondare quelle che sono state le richieste di sviluppo e l'ho fatto con piacere, essendo seguito da tutta una serie di persone che credevano nel mio progetto. Ecco, ma quando salivi su quel palco e vedevi tutti i messaggi, le telefonate che arrivavano da tutto il mondo, che cosa sentivi dentro? Tanta soddisfazione, tanta emozione, perché la televisione e lo sviluppo della televisione era uno dei punti programmatici che mi ero messo e prefissato al momento dell'incarico da delegato. Arezzo TV in questo caso ha seguito le volontà dell'amministrazione del delegato, eccetera, e i risultati si sono visti, perché insomma l'innovazione del drone e comunque la diretta sul satellite, tutta una serie di operazioni che danno visibilità poi al Palio in Australia, piuttosto che a New York, piuttosto che a Londra, e vedere arrivare i messaggi da tutto il mondo riempie di soddisfazione e di gioia, perché quello è il palcoscenico che merita il nostro Palio. Speri o ti fa paura di un secondo mandato come delegato? No, io ho già detto che non farò più il delegato del Palio, qualsiasi sia il risultato elettorale, poi comunque la decisione sarà del nuovo sindaco, io da questo punto di vista rimarrò a collaborare col Palio, lo farò attivamente, perché una delle caratteristiche solite dei palianti e dei santo Stefani e portercolesi in genere è che quando si esce da un'organizzazione, chissà com'è mai ci si mette a remare contro, questa è una filosofia che non capisco, che veramente rifiuto, io al di là dei gradi che avrò sulle spalle, io amerò sempre il Palio e lavorerò sempre per il Palio, di Porto Santo Stefano e quindi di Palio Manuario e di Argentario e di Porto Ercole a regata dei quattro fori. Michele Lubrano è un assessore uscente per quanto riguarda Porto Ercole e l'economia del mare, tiriamo le somme va? Allora, intanto sì, sono uscente che a fine mandato come assessorato non solo Porto Ercole ma anche l'economia del mare che diciamo risponde anche per Porto Santo Stefano, quindi tutti i porti. Devo fare un bilancio, devo dire che sono soddisfattissimo perché in cinque anni ci abbiamo fatto a chiudere tre piani di regolatore dei porti, quello del Valle nel 2014, Cala Galera e Porto Ercole. Cala Galera perché dagli anni 70 in poi non aveva più delle regole all'interno quindi c'era un parcheggio fatiscente e dovevamo regolamentarlo, tipo anche i bagni, tipo anche la torre di controllo, mentre per Porto Ercole veramente si parla del 59, l'ultimo piano lavoratore del Porto. Quindi sono contento, felicissimo in questi anni che ci ho messo l'anima pur di chiudere, non solo io con tutta la squadra perché quando uno lavora in giunta poi è la squadra che fa le cose, quindi gli uffici e soddisfazione piena perché veramente all'interno del Porto sappiamo cosa dobbiamo fare oggi. Naturalmente lo sviluppo del PRP si vedrà negli anni perché spostare un distributore non è che domattina lo prendo e lo sposto, c'è da fare un programma di progettazione, allargamento della banchina, c'è da fare anche i tuoi servizi, i servizi intendo i bagni all'interno del Porto con docce, c'è da fare la banchina sotto la Cirio, quindi c'è dei sviluppi che sarà da qui nei prossimi anni. Certo che in questi anni avete rivoltato come un calzino Porto Ercole, anche dal punto di vista di unità abitative, abbiamo visto delle zone completamente nuove, rifatte ex nuovo. Sì, ci sono delle zone dove abbiamo veramente messo le mani, siamo andati un po' a macchia di leopardo su Porto Ercole, sull'Argentario eravamo più precisi, su Santo Stefano eravamo più precisi di cosa volevamo fare. A Porto Ercole avevamo delle strutture tipo il circolo tennis, tipo i polivalenti, tipo il Viale Caravaggio, la terrazza grande che avevamo delle infiltrazioni, quindi sapevo dove andare, però questi interventi sono partiti dal Paese Vecchio, a una piccola frana, arrivare in piazza, arrivare a 167, zona PEP, poi fare le strutture sia del tennis che del polivalente, quindi ho lavorato un po' a macchia di leopardo su Porto Ercole. Ma ci sarà una cosa che ti è rimasta nel gozzo che non hai potuto fare? Ti posso dire che cosa che non ho potuto fare è il metano a Porto Ercole, perché veramente non ci siamo riusciti con mille incontri, anche se adesso siamo vicini, perché abbiamo fatto già una conferenza di servizi dove i pareri sono tutti positivi. Mi dicono che si parte il 15 ottobre per i lavori, ci credo poco, perché sono negli ultimi anni, tre anni, che mi dicono si parte, si parte, poi la gara doveva fare la provincia, poi la doveva fare la regione, è ritornato alla provincia, non c'è una ditta individuata, quindi i problemi sono stati tanti. Adesso mi dicono che il 15 ottobre si parte, quindi sarei felice di partire e fare questa materializzazione a Porto Ercole, tra l'altro ce l'ha finita ancora a Santo Seno in alcune zone. Di opere, questa è la cosa che non abbiamo fatto, ma ti posso dire che abbiamo messo in mano all'asiletto, dove verrà questo polo culturale, un multimediale del Caravaggio, ma non solo, perché all'interno c'è un caffè letterario, c'è una biblioteca, c'è un anfiteatro, c'è un cinema all'aperto, quindi sarà veramente un polo culturale all'interno di Porto Ercole. Il recupero dell'asiletto dopo 40 anni è tanta roba per un portercolese. Oltre a quello poi abbiamo scuole alimentari, ex scuole alimentari e la Cirio, il vecchio stabilimento della Cirio. Adesso parte la stagione, quindi pirati, regata remiera, tutto pronto? Si parte? Con che aspettative? Tutto pronto, si parte, abbiamo questo palio marinario di Porto Ercole, abbiamo la notte dei pirati che voi la seguite, sapete che numeri di persone portiamo all'interno del paese. È tutto pronto, le aspettative sono positive, ci sono anche delle regate importanti, che sta facendo il circolo di Cala Galera, come il circolo anche qui di Santo Stefano. E quindi vi ritroveremo sempre come assessore di Porto Ercole? Questo poi dipende, intanto ci sono le elezioni, le elezioni vanno vinte, poi dipenderà dal sindaco che tipo di deleghe vorrà dare, ma bisogna prima vincere. 4, 5 e 6 maggio, notte dei pirati e il papà della notte dei pirati è Antonio Sabatini. Cosa bolle in pentola di nuovo? Beh, un po' il format l'abbiamo cambiato, nelle disposizioni diciamo, sono cambiate le posizioni. Innanzitutto la partenza della sfilata non avverrà più all'esterno del paese, lì al parcheggio, ma lo portiamo in riva al mare, davanti a Bastioni Santa Barbara, poi si snoderà lungo il lungomare, salirà su Viale Caravaggio per morire qui in Piazza Roma. Quest'anno abbiamo aggiunto anche la battaglia navale, ci saranno le navi, corsare spagnole che si incontreranno, si daranno battaglia, dopo naturalmente vinceranno gli ottomani, i turchi, i turchi assaliranno l'isola, uccideranno tutti noi spagnoli per andare a fare poi lo sbarco. E la novità è che dopo lo sbarco inizia subito la caccia al tesoro. Prima di andare nelle taverne? Certo, proprio per permettere ai turisti di andare a prendere il rancio con tranquillità mentre noi facciamo la caccia al tesoro. Dopo la caccia al tesoro, anzi, durante la caccia al tesoro, come ha fatto il Barbarossa, incendieremo il borgo antico. Ah, quindi è una grossa novità questa? Certo, è una grossa novità, in senso metaforico, con delle luci, dei fumogeni, comunque lo incendieremo. Ecco, alle 10, alle 22, dopo la caccia al tesoro continua e dovrebbe terminare verso le 23. Dopo la caccia al tesoro ci saranno i fuochi pirotecnici. Dopo i fuochi pirotecnici la premiazione e dopo il rancio. Quindi molto più spazio per le sciurme, molta più visibilità per intenderci. E quante sciurme si prevedono? Le sciurme sono legate a tanti fattori, sono molte variabili, innanzitutto il tempo, perché le sciurme di qua, di Porto Ercole, sono quelle, no? E poi c'è il museo dei pirati che inaugurate proprio in questi giorni, che è un'altra cosa tua, una figlia tua, diciamo così. Eh no, no, ma possiamo dire Antonio, è la realtà. Un vero e proprio museo non è, è anche. Cioè praticamente installeremo all'interno una situazione, diciamo, piratesca, con tanto di tesori, viaggio in navigazione, ritrovamento del tesoro, il tutto condito con un sistema in Dolby Surround, di registrazioni, di voci, di suoni, c'è gabbiani, rumori di spade, rumori di tuoni, lampi, tempeste, tutto in Dolby Surround. Quindi all'interno si godrà questa storia, soprattutto per i ragazzini, sarà molto carino. Quindi i pirati che si modernizzano, diciamo anche dove è questa specie di museo? Un po' come era la grotta questi altri due anni, no? È proprio sul lungomare, a fianco alle vecchie scuole elementari. Comunque lo pubblicizzeremo bene, ci saranno dei cartelli indicatori. Insomma è un grande impegno anche quest'anno. Anche quest'anno, sì. Diciamo il quattro, intanto i bambini. Ah, ecco, il venerdì, come al solito, c'è la caccia al tesoro e dei giovani pirati che aumentano sempre più, eh? Aumentano, sì, 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 aumentano. Diventa sempre più complicato, perché fare la caccia al tesoro per 300-350 bambini in notturna è tosta. Poi il 5 è quella classica? Quella classica. Dopo il 6, il 6 c'è la regata di Corsari. Cioè la conquista dell'isolotto. Però al mattino, forse abbiamo un po' spostato, il primo pomeriggio ci sarà una regata argentario senza confini, che è una regata velica, tutti corsari naturalmente, dei ragazzi portatori di handicap. Anche quella è una cosa molto bella. Molto interessante. Interessante, sì. Alle spalle di Antonio Sabatini c'è il vecchio asilo Ricasoli, che successivamente diventerà però casa-museo del Caravaggio, per intenderci. Non ci crederete, alcune nostre immagini ve lo documentano. Abbiamo filmato alcuni mesi fa e adesso a che punto siamo? Siamo quasi alla fine. Da un punto di vista progettuale, diciamo che il progetto sia urbanistico e quello architettonico è praticamente concluso. Stiamo lavorando e siamo anche lì alla conclusione nell'allestimento scientifico. Spiega meglio. Allora, naturalmente c'è l'immobile, da un punto di vista architettonico, all'interno verrà installata questa mostra permanente dedicata a Caravaggio. Ecco, c'è tutto un allestimento scientifico dietro, di curatela scientifica, c'è testuale, c'è immagini, video, audiovisivi, audio. Sono tutti un insieme di impronte tecnologiche che faranno sì che l'asilo, nella sua complessità, perché non sarà soltanto all'interno dell'asilo di caso, di la mostra, ma sarà diffusa in tutte le fortezze, compreso il Borgantico. Quindi ne avremo 43... Sarà come un museo itinerante. Ecco, sarà unico al mondo, perché praticamente ne metteremo 44 nell'asilo di Casoli, 17 a Forte Stella, 5 a Forte Filippo, 5 a Forte Rocca e 10 nel Borgantico. Questo è un posto di richiamo turistico. E' certo, l'intento è quello, perché permetteremo al visitatore di godere non solo da un punto di vista artistico la storia di Caravaggio, artistica del grande maestro, ma anche di godere il paesaggio attraverso percorsi, anche trekking e mountain bike, ma di godere anche la storia attraverso i forti. Quindi avete già recuperato tutti questi capolavori e li state mettendo in 3D? Certo, abbiamo praticamente le liberatorie di tutti i musei, collezioni e pinacoteche del mondo, perché Caravaggio è praticamente sparso in tutto il mondo, meno che in Asia, e ce le abbiamo già tutte. Ora resta soltanto da individuare la ditta, la cupisteria che farà le riproduzioni. Qui ho visto che avete già fatto il camminamento per arrivare al museo, che previsioni abbiamo per concludere quest'opera? Noi, se questa tornata elettorale la dovesse vincere Priscilla Schiano, che è la candidata, ricordiamo, la candidata, anche per Arturo Cerulli, ha fatto già due mandato, con questo ecco, che è la candidata, il proseguo di questa amministrazione, e praticamente la vorremmo inaugurare a dicembre di quest'anno. Addirittura? Sì. Ce la farete? Sì, perché siamo convinti che l'idea del museo diffuso di Casa Caravaggio sia in grado di attrarre una nuova economia, quella del turismo culturale. Ha la forza per farlo. Insomma, per Porto Ercole sarà un passaggio fondamentale. Certo, perché siamo convinti che il turismo nautico non basta più, si stringe sempre di più a quei due mesi, e quindi i mesi invernali, che siamo nell'oblio, li riempiremo con il turismo culturale. Con il grande albergo a Cecilio, insomma, tutta una serie di cose in positivo. Certamente, Porto Ercole subirà un cambiamento abbastanza importante. E tu sarai il custode di questa cosa? Vabbè, speriamo, non lo so, boh. Come boh, sappiamo che per ora è così. Vabbè, per adesso no, sono il custode, sono uno di quelli che ci stanno lavorando. Io è tanti anni che ci pensavo al museo di Caravaggio. Adesso siamo quasi in porto. Siamo quasi in porto, sì. Grazie.